E poi rilancio anche qui il messaggio che aveva scatenato le polemiche stamattina, bisogna consentire alle famiglie meno abbienti di mandare i figli a scuola privata, se hanno questa sfortuna qui. Per cui ci sono casi e casi di insegnanti della scuola pubblica che attraverso libri di testo tutti di sinistra vogliono educare i figli in una maniera non corrisposta dai loro genitori.